Una struttura di accoglienza a disposizione dei disabili e dei soggetti più fragili quando viene meno il supporto familiare. È la funzione principale che andrà a svolgere il laboratorio per il dopo di noi inaugurato a Tossicia grazie ad un progetto presentato dal Comune e finanziato dalla Regione Abruzzo. Per tutta la Regione Abruzzo sono stati messi a disposizione oltre 525 mila euro e sono stati approvati complessivamente sette progetti presentati dai diversi ambiti regionali. È un progetto pilota, partiamo da Tossicia ma ce ne sono tanti altri. Questo è un primo finanziamento che abbiamo messo in campo come Regione Abruzzo con oltre 500 mila euro ma ne metteremo in campo altre perché c'è bisogno di questi tipi di strutture per andare incontro a queste persone quando rimangono sole. Sono molto soddisfatto, continua l'azione della Regione Abruzzo e del mio assessorato al sociale per quando attiene le persone deboli, fragili che sono in difficoltà perché in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro. Stiamo mettendo in campo tante misure nell'ambito del piano sociale regionale con progetti speciali ma anche con il caregiver. Nei prossimi giorni uscirà quello per i malati gravi ma anche vita indipendente, la non autosufficienza. Soprattutto voglio ricordare questa somma che abbiamo messo per le persone affette dallo spettro autistico. Il laboratorio di Tossicia si inserisce nel progetto più ampio che può contare su un fondo che destina risorse a soluzioni alloggiative di carattere innovativo che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare per la residenzialità delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare. Per noi è un orgoglio oggi poter inaugurare questa struttura come prima struttura sul territorio per l'accoglienza delle persone portatrici di handicap grave. È veramente un fiore all'occhiello e io come commissario ringrazio tutti quelli che in passato si sono adoperati affinché questa struttura oggi vi ha potuto vedere la luce. Quindi da tutte le operatrici sociali a Pier Giorgio Possendi che è l'anima di questa comunità. Quindi ringrazio veramente tutti.